Io sono Clemente Russo e oggi lavoriamo sul petto. Dopo gli esercizi alla panca e con gli elastici, ci dedichiamo alla trasformazione. Aiutandoci con una palla svizzera, facciamo tre serie da 15 lanci contro il muro, distendendo bene le braccia con un movimento continuo ed efficace. Cerchiamo di metterci tutta la nostra forza, senza però perdere la precisione nel movimento. Grazie a tutti.